Sì, ma... che cosa ho fatto? A me dovremmo essere speciale, io e papà, avventura di te. A patrucci stringiamo al centro, fronte uno, due, tre, verso il centro. A patrucci stringiamo al centro, fronte uno, due, tre, verso il centro, fronte uno, due, tre, verso il centro. A patrucci stringiamo al centro, fronte uno, due, tre, verso il centro, fronte uno, due, tre, verso il centro.